Ciao, sono Jay Lamed, sono di origine egiziana e quest'anno mi sono diplomato qua all'Ips e Mongini e grazie al sostegno dei miei docenti in questi anni e alle possibilità che mi hanno offerto, sono riuscito a abbassare con il massimo dei voti, io ci tengo a portare avanti gli studi grazie a quello che ho imparato a scuola in questi anni, vorrei fare scienze della comunicazione, comunque qualcosa nel campo del sociale per essere sempre vicino agli ultimi della fila perché è ciò che è stato offerto a me quando sono arrivato in Italia. Io vivo a Zinasco Nuovo in una struttura che mi è stata messa a disposizione grazie alla comunità dove vivo e loro comunque mi seguono ancora oggi e mi seguiranno ancora anche in futuro per quanto riguarda l'università e anche il mondo del lavoro e per qualsiasi necessità io penso che loro ci siano sempre stati e ci saranno e anche grazie alla comunità se io ho potuto finire la scuola perché da quando sono maggiorenne loro mi hanno lasciato un appartamento a disposizione dove io potessi vivere, trovarmi un lavoretto serale e portare avanti gli studi e nello stesso momento mandare anche qualcosina alla famiglia che dall'altra parte spengeva a farmi mollare gli studi e andare subito a lavorare una volta maggiorenne. Invece grazie all'impegno della comunità che mi ha sostenuto da questo punto di vista io quest'anno ho potuto diplomarmi qua all'Ipsia e l'anno prossimo speriamo di poter fare l'università.